Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, giovedì 30 novembre del 2017. Vediamo quali sono i temi sui giornali. Intanto i giornali non hanno grandi cose oggi, ve lo dico subito. Quindi ci sono un po' di spigolature che però vi segnalo perché secondo me sono molto divertenti. Intanto esiste un'emergenza democratica in questo paese, anzi, come dice Repubblica, c'è un grande problema perché la destra non ha preso distanza. I leader di centro-destra, che sono Salvini, Berlusconi, Lameloni, non hanno preso distanze dai nazi skin che ieri hanno fatto un'incursione in un centro di immigrazione a Como. In realtà poi vai a vedere che sono 13 ragazzi skinheads, certo gente con cui io non andrei a cena, che sono entrati e hanno letto un tremolante comunicato in cui dicono che sostanzialmente ce l'hanno contro l'immigrazione, contro il fatto che vengono accolti questi immigrati, contro chi li accoglie. Hanno letto questo proclama a casa di altri, quindi utilizzando una certa, come possiamo dire, maleducazione barra violenza nell'entrare a casa degli altri e poi hanno distribuito i volantini e poi come sono arrivati? Dopo 5 minuti se ne sono andati via. Allora, adesso, in un mondo in cui i no-tav coccolati dal PD e dalla sinistra del Movimento 5 Stelle menano i poliziotti e incendiano i mezzi, in un momento in cui i no-tav in Puglia mandano i bambini contro le camionette dei carabinieri per lo sgombero, in un momento in cui i palazzi delle città sono occupati da centri sociali e non centri sociali, in un momento in cui ogni manifestazione nelle città vede gente che lancia San Pietrini contro la polizia, gente di sinistra, allora voi mi dovete dire, cazzo di Repubblica e della stampa, che il problema sono 13 schinez che arrivano in un centro di Como, no? Me lo dovete spiegare perché questa è una cosa che mi affascina, cioè gli schinez sono il problema della tenuta democratica di questo paese e si fa il processo ad Alemanno, non so in quale giornale, perché non ha preso a sufficienza le distanze, mi sembra una cosa ridicola. Ridicola poi è anche la descrizione del generale serbo croato che si uccide, sapete perché è ridicola? Perché oggi ho provato a capire sui giornali quest'uomo che si uccide che cosa avesse fatto di questi crimini di guerra, perché questo è il tema, è stato condannato a 20 anni per la seconda volta, si è appellato, ha perso anche 20 anni e si è ucciso con la cicuta, va bene? Questo è quello che c'è su tutti i giornali, io che sono un ignorante ma che cerco di leggere i giornali, voglio capire che cosa ha fatto per essere condannato a 20 anni e per uccidersi, da cosa nasce questo senso di ingiustizia che lui ha patito tanto da non accettare la sentenza del Tribunale dell'AIA, a parte l'imbecillità del Tribunale dell'AIA che si fa suicidare uno in aula. Sapete? Tutti i giornali di oggi mi spiegano che lui ha bombardato il ponte di Monstar. Allora no ragazzi, perché se questo è il suo crimine di guerra, ovviamente non è solo questo, pare che abbia ucciso musulmani come se fosse con rappresaglie diciamo inumane, può darsi, non lo so, ma spiegatemelo perché oggi riesco a capire soltanto che il motivo per il quale lui è stato condannato a 20 anni è che ha distrutto questo gioiello dell'arte musulmana. Beh, insomma, francamente questo dà il senso dell'approfondimento che noi abbiamo fatto sul generale sulla sua morte. Straordinario a parte questo è la questione dell'IKEA trattata dalla stampa, perché nelle prime 50 righe si legge che una donna che ha due figli, che era lì dal 1999, uno dei due figli è disabile, bene, è stata licenziata in tronco dall'IKEA, dice la donna, perché non ho rispettato i turni che l'IKEA mi aveva dato per due o tre volte. E ci sono 60 righe in cui spiegano l'ingiustizia di questa azienda, che ha un atteggiamento inumano, e quindi tutti noi abbiamo solidarizzato con questa giovane donna e giovane mamma che ha due figli e che deve campare che l'IKEA è questo brutto cattivo gigante svedese, dove in Svezia applicano un welfare della Madonna e in Italia fanno i predatori colonialisti. E io di fatti mi sono accodato in questi giorni a questa idea tremenda, anche perché io non ho simpatia verso questi grandi multinazionali che fanno i fenomeni a casa loro e gli sfruttatori a casa nostra. Poi mi leggo il pezzo della stampa, e tra l'altro io chiamo anche l'IKEA per avere informazioni nei giorni scorsi, non vi sto a dire come ti trattano, l'ufficio stampa dell'IKEA fa schifo, fa schifo, mandano un comunicatino, poi il giorno dopo te ne mandano un altro, non ti richiamano, poi tutto sommato, insomma, tra questa zuppa di porro, tra le 150.000 persone che vedono la zuppa di porro, tra la radio Matrix, tra Matrix in televisione, tra il giornale, forse insomma qualche milioncino di persone, la contattiamo attraverso tutti questi strumenti, ma l'ufficio stampa ovviamente dell'IKEA non ha tempo da dedicare ai giornalisti che ti chiamano per chiedere notizie, quindi non ho simpatia nei confronti dell'IKEA, il primo prezzo che uno deve fare è non andare all'IKEA nei confronti di chi non ha simpatia, ma il punto è che oggi leggo invece, tra l'altro lo vedo in un comunicato che mi mandano ieri sera senza neanche un recall dall'IKEA, che alla fine degli 80 righe del pezzo leggo, sapete che cosa leggo Anna Cimino e tanti amici che ce l'abbiamo, la simpatia nei confronti di questa donna? Che nel comunicato dell'IKEA 4 righe, 4 righe, sono le ultime 4 righe del pezzo della stampa, si dice che questa signora in 30 giorni si è presentata al lavoro 7 volte, 7 volte, e per di più in queste 7 volte, la metà di queste 7 volte era fuori turno, anzi nella stampa non c'è scritto, ma nel comunicato c'è scritto, e allora qua ci sono due cose, se si è presentata 7 volte su 30 giorni non è esattamente come ce la racconta lei, capisco perché l'hanno licenziata in tronco, e soprattutto non capisco un giornale come la stampa, figlia di quella grande tradizione della Fiat operaista, ma anche padronale, come mai lo metta nelle ultime 4 righe la comunicazione dell'IKEA? Per quanto siano stronzi questi dell'IKEA, per quanto il loro ufficio stampa sia, voglio dire, antipatico, forse le notizie conviene darle. Bellissima l'intervista di Massimo Cacciari sul Natale, sul giornale, va la pena di leggerla in cui dice io ateo capisco perché è importante il giornale, perché è importante leggere, perché è importante il cristianesimo, incredibilmente ridicola l'intervista di Luciano Benetton oggi sulla Repubblica, in cui spiega perché la Benetton, quella dei maglioncini, è fallita. 81 milioni di passivo nel 2016 e ancora peggio nel 2017. Ci spiegheranno perché è fallita, sapete perché è colpa dei manager che non hanno vigilato, ma tu dove stavi? Tu Luciano Benetton dove stavi? In barca, lo dice lui, in barca, fa i premi, i monumenti, le cose, in barca. Lui stava in barca Benetton, va bene? Allora, io la trovo e rispondi al telefono in icono e aspettiamo, infatti sto ricevendo un po' di telefonate in questo momento ma non riesco a rispondere. Fantastica quindi l'ipocrisia di Luciano Benetton che mentre lui stava in barca andava di merda la sua azienda licenziando persone, mentre andavano bene invece le aziende che va comprato il fratello che sono semplicemente come dei contatori perché sono delle rendite, le autostrade e aziende di servizi in cui non c'è bisogno di confrontarsi sul mercato perché sono monopoli naturali. Ridicola l'intervista, la rettifica che Massimo Lanza, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca fa sul Corriere della Sera dicendo che loro stanno gestendo bene oggi Veneto Banca, cosa peraltro vera e la ricostruzione della Serzanini totalmente parziale è vera, caro Massimo Lanza, caro Veneto Banca compratevi un ufficio stampa, cercate di spiegare le cose perché una lettera burocratica quella di Massimo Lanza ti viene di gettarla nel cestino alla terza riga. Così come invece bellissimo è il Feltrino oggi sulla stampa, questo sì vale la pena di leggerlo, sull'onorevole Villa Rosa del Movimento 5 Stelle che ha querelato Feltrino perché aveva dubbi sul fatto che lui facesse parte della commissione di inchiesta sulle banche e Feltri ricorda modestamente quello che Villa Rosa e il fratello facevano nella loro idea finanziaria, cioè la loro società finanziaria del fratello per la verità di cui lui era dipendente che mi sembra che abbia debiti con le banche per 40 milioni, sia stata condannata o comunque abbia avuto dei processi per usura bancaria. Vi saluto, rispondo alle telefonate che mi stanno incalzando questa mattina al 9.47 e vi do appuntamento questa sera a Matrix 105 su Radio 105 e ovviamente domani con la zuppa. Ciao!